Uno schianto l'ennesimo ieri intorno alle 19.30 sulla Gela Catania all'altezza di Villa Fabrizio a pochi passi dall'ingresso della città. Coinvolti nell'incidente una Jaguar, una Smart e un Pullman extraurbano Sais diretto a Palermo. Secondo le prime ricostruzioni la Jaguar, mentre viaggiava in direzione Gela, avrebbe invaso improvvisamente la corsia opposta andando ad impattare violentemente contro l'autobus che era appena partito dalla stazione di Gela e si stava dirigendo verso il capoluogo. Probabilmente l'incidente è stato causato da una manovra di sorpasso azzardata. L'autista della Jaguar avrebbe calcolato male il tempo di rientro dopo aver superato una Smart che aveva davanti e non avrebbe fatto in tempo evitare il Pullman colpendolo in pieno nella parte anteriore, appena sotto il sedile del guidatore. Dopo lo scontro la Jaguar ha carambolato su se stessa finendo la sua corsa sul guardrail. Ad avere la peggio, proprio il conducente della potente auto, un professionista gelese, Angelo Cascino, noto in città anche per il suo impegno politico. L'uomo stava tornando da Catania dove era stato per impegni lavorativi. A causa dello schianto avrebbe riportato diverse fratture, soprattutto agli arti inferiori. Per questo motivo si è reso necessario l'arrivo dell'elicottero del 118 che ha trasportato d'urgenza il ferito al Santeria di Caltanissetta. I lesi, l'autista del Pullman e i cinque passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del mezzo. Sul posto la polizia stradale che ha avviato i primi accertamenti e gli uomini del 118. La Catania Gela torna a confermarsi una strada molto pericolosa. Solo nell'ultimo anno sono già quattro gli automobilisti che hanno perso la vita lungo quel tratto di asfalto, mentre gli incidenti più o meno gravi sono purtroppo all'ordine del giorno. A peggiorare la percorribilità di una strada comunque trafficatissima, le condizioni di scarsa manutenzione di diversi tratti è la statale e i tanti cantieri disseminati lungo il tratto che da Catania porta fino a Gela.